benissimo benvenuti ufficialmente a questo webinar iniziamo oggi puntualissimo alle 16 e 30 io sono maria giulia ganassini e oggi sono con francesco denobili francesco ciao 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 a te ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo oggi affrontiamo il quarto capitolo del ciclo che abbiamo iniziato ormai un anno fa francesco se non mi ricordo male dedicato all'integrazione delle attività di marketing digitale abbiamo già percorso nei mesi scorsi spero che tanti ci abbiano già sentito appunto diverse angolazioni tutti i passi da seguire per integrare realmente le attività digital se non avete seguito i webinar precedenti e volete rimettervi in pari basta che andiate sulla pagina di webinar del sito di mail app e selezionate l'archivio dei webinar passati e ritroverete le date precedenti da riguardare ma entriamo subito nel merito del webinar di quest'oggi ci siamo già presentati brevemente io sono maria giulia chi segue il webinar mi conosce perché ormai da un po di tempo li tengo io sono content community manager per mail app e appunto con me c'è francesco denobili che è un formatore un consulente dedicato proprio al mondo del digital marketing integrato del content marketing tra l'altro abbiamo riportato il sito internet nuovo francesco perché l'hai appena rifatto quindi giusto invitiamo magari dopo più tardi chi ha voglia ad andare a vedere questo questo nuovo sito fatto molto bene di cosa parliamo nel webinar di oggi abbiamo una sessione live di 45 minuti circa a cui seguiranno le vostre domande in circa 15 minuti se non riusciremo a rispondere a tutto quanto sentitevi liberi di iscriverci sui canali social per esempio o via mail a webinar che ho c'è la mail app punto it e cercheremo di rispondervi nel modo migliore vedremo brevemente chi è mail app per chi già non ci conosce e poi insieme a francesco andremo nello specifico della definizione delle fasi di un progetto di marketing integrato vedremo come creare dei workflow automatici o semi automatici integrati e come mantenere i risultati ottenuti vediamo brevissimamente chi è mail app se siete qui probabilmente ci conoscete già ma io vi ripeto qualche micro nozione per essere sicuri diciamo mail app è la soluzione leader in italia per il marketing via email sms tanti ci conosceranno come una piattaforma di invio email in realtà nel corso degli anni siamo diventati molto più di questo siamo in realtà una soluzione completa per il marketing multicanale via email sms e abbiamo delle novità in cantiere non da poco per dei nuovi canali che vi sveleremo tra brevissimo quindi preparatevi a grandi novità noi forniamo tutti gli strumenti che servono per mettere in piedi delle strategie evolute di marketing multicanale automatizzato e offriamo una soluzione che è realmente su misura che cosa vuol dire che ascoltiamo tutte le aziende ciascun nostro cliente per costruire una soluzione ritagliata realmente sulle sue esigenze e poi forniamo tanta formazione come per esempio questo webinar e anche qui abbiamo tantissime novità in cantiere tra poco tra qualche settimana forse un paio di mesi saremo online con una un hub dedicato alle risorse completamente rinnovato con cui speriamo di darvi ancora più valore aggiunto per quanto riguarda proprio la formazione l'aggiornamento continuo e poi mettiamo a vostra disposizione il know how che abbiamo acquisito ormai sono nel 2018 sono 15 anni di attività di mail app che ci ha portato a essere proprio i leader del settore in italia e una presenza comunque internazionale di rilievo tutto a disposizione dei nostri clienti per delle strategie per mettere in piedi delle strategie realmente efficaci i nostri clienti sono ormai 11.000 e spaziano su vertical molto diversificati tra di loro che vanno dall'e-commerce al banking al retail al travel il turismo le onlus di tutto diciamo quello che cerchiamo nei nostri clienti tipo è la voglia di appunto usare delle strategie non banali di mettersi in gioco con i canali email e sms detto questo io passo la parola francesco francesco ti passo anche proprio lo schermo ok vai aspettando vediamo se ci siamo vedete ci siamo pronti via grazie mille allora partiamo visto che siete tantissimi quindi veramente un grande onore per me e quindi non perdo tempo partiamo subito perché se vi siete iscritti così tanti probabilmente avete bisogno avete interesse a in qualche modo esplorare questo argomento nel dettaglio allora parlava prima velocemente mi presenta appunto francesco le nobili questo appunto il mio sito dove è stato lanciato da qualche mese dove fondamentalmente pubblico le mie attività di ricerca soprattutto nel digital marketing integrato le ultime novità del settore sarà appunto un sito che avrà un percorso di di crescita già definito e per cui vi invito intanto a seguirmi ovviamente sia sul sito iscrivendovi alla newsletter manderò una newsletter particolare senza una pubblicazione costante quindi non è assolutamente spam ma è l'idea proprio di creare un vero rapporto con con chi mi segue con iniziative proprio personalizzate per gli iscritti la possibilità appunto di riuscire in qualche modo a rimanere in contatto sia dal punto di vista proprio tecnico con le novità del settore con le ricerche che svolgono il campo del digital marketing e per dare anche delle iniziative un valore vero dei contenuti veramente reali per poter utilizzare al meglio questa opportunità oltre a questo seguitemi su linkedin che è il mio canale veramente preferito dove sto facendo tantissime attività anche qua di ricerca da un lato alcuni lo chiamano anche grow hacking dall'altro nel senso che sto sviluppando alcune tecniche veramente molto interessanti e quindi seguitemi anche lì ma partiamo con appunto un po la mia attività velocemente per spiegare da dove arrivano poi queste informazioni io svolgo attività di docenza e da diverso tempo ho un osservatorio ho creato una sorta di osservatorio di digital marketing dove fondamentalmente assieme a diverse aziende partner diverse agenzie pubblicitarie agenzie di comunicazione web agency cerco di capire i nuovi trend del mercato digitale e soprattutto di come attraverso gli strumenti digitali possiamo effettivamente ottenere dei risultati oggi abbiamo una grande opportunità si parla tanto di digitalizzazione quello che sto cercando di fare è capire i diversi settori qui ne trovate veramente tanti ormai veramente ho lavorato in tutti i settori che vedete finanza retail il mondo b2b mondo local piccole e medie imprese e commerce il mondo food e le multinazionali ovviamente ci sono delle differenze non lo posso nascondere tra un'azienda strutturata come può essere una multinazionale o comunque con grandi dimensioni rispetto a una piccola media impresa però quello che sto cercando di portare avanti e che tra poco diventerà anche un libro è che è possibile avere un metodo di lavoro e che quello che cercherò di far passare anche oggi che ci permette di trovare diciamo il giusto modo di lavorare e soprattutto di sfruttare le diverse opportunità attraverso che cosa attraverso la ricerca che faccio ovviamente la consulenza ovviamente la formazione perché è molto importante anche una formazione interna ed esterna nel senso che le aziende hanno anche bisogno di avere proprio una formazione sul campo per determinati settori e soprattutto una fase che amo tantissimo è quella di testare quindi una parte dei progetti è sempre dedicata a provare nuove soluzioni non vuole assolutamente dire andare a tentoni ma significa proprio trovare sempre la strategia migliore le tecniche migliori per ottenere risultati avere sempre una parte di innovazione e ricerca che il più delle volte devo dire quando funziona poi viene integrata a sistema con il resto allora dicevo grandi opportunità oggi da dove arrivano arrivano soprattutto da questo cioè noi oggi possiamo realmente arrivare a chiunque questo qui un co ovviamente è una persona che ha determinate caratteristiche e la cosa interessante che lo possiamo andare a intercettare attraverso diversi canali che utilizza a seconda delle sue abitudini a seconda dei suoi bisogni espresso e latenti ne avevamo parlato allo webinar scorso attraverso anche delle modalità che magari preferisce alcune fasce diciamo di età sono ancora più sensibili al contatto diretto per quello vediamo addirittura anche in questo caso i call center altri ad esempio addirittura le chiamate le usano delle app proprio per evitare qualsiasi tipo di chiamata dai call center quindi ognuno ha delle caratteristiche ben precise e noi dobbiamo andare a intercettarlo la cosa interessante è che noi possiamo fare tutto questo ovviamente passando dai contenuti che rimangono alla parte centrale ma lo possiamo andare a fare oggi in maniera automatica o semi automatica cioè la cosa interessante è che le tecnologie di oggi ci permettano di definire il mio pubblico di riferimento da un lato e soprattutto di creare quelli che sono chiamati workflow quindi dei flussi fondamentalmente di azioni per far sì che il contatto e la nostra comunicazione arrivi in maniera automatica o semi automatica a seconda delle azioni che compiono proprio questi utenti si chiamano generalmente trigger cioè sono tutte attività che vengono svolte dagli utenti che potrebbe essere semplicemente visitare quella pagina o quel prodotto nell'e commerce a quel punto noi possiamo far partire delle attività ovviamente automatizzate a seconda dell'azione ad esempio attività di app selling o cross selling quindi qualche modo o prodotti correlati o dei prodotti che in qualche modo sono realmente utili all'utente e magari appunto hanno anche un prezzo magari maggiore tutte queste attività oggi noi le possiamo assolutamente attuare qual è il problema è che per riuscire a ottenere tutto questo oggi dobbiamo assolutamente utilizzare un approccio unico e integrato qui vedete al centro i dati i dati fanno veramente la parte di riferimento perché sono l'inizio e la fine del nostro ciclo si parte di data disposizione si creano una serie di attività e lì si ritorna velocissimamente questo schema serve solo per far capire che oggi non è più possibile dividere le azioni di marketing in generale direi io nello specifico se vogliamo nel digitale in compartimenti quello che ancora oggi vedo purtroppo soprattutto in alcune piccole e medie imprese è il fatto di dividere magari alcune singole attività magari anche esternamente per come dice vabbè ovviamente io non posso gestire tutto certo però non è bene e non è funzionale dividere ad esempio delle attività come la gestione del sito e la creazione dei contenuti quindi dall'altra parte gestire la SEO o il sistema di AdWords perché tutte queste attività in realtà devono assolutamente essere interconnesse tra di loro come possiamo fare un email marketing efficace se non sappiamo riconoscere che tipo di bisogni ha il nostro utente tipo e come si muove appunto all'interno del nostro sito o del nostro e-commerce o magari che tipo di sentiment ha nei confronti dei nostri prodotti quindi è ormai chiaro che all'interno diciamo di questa attività ci siano da una parte appunto i dati in questo caso parlo di CRM che è lo strumento un po' fondamentale oggi visto in ottica possiamo dire CRM 4.0 cioè un sistema che non è più un qualcosa di statico ma assolutamente dinamico un software che ci aiuta a tracciare tutte le attività dei nostri contatti e in qualche modo può anche essere collegato alla marketing automation per andare poi a profilarli meglio e addirittura a creare dei meccanismi automatici quindi tutto questo oggi deve essere assolutamente integrato perché? cerchiamo di capire in maniera semplice questa è una metafora che sto iniziando un po' a portare in giro anche durante la formazione nelle aziende e anche in qualche momento perché ho notato che è molto efficace quindi parto subito la notizia buona visto che oggi avete visto come sono ottimista è che avete ereditato un terreno quindi immaginatevi di avere ereditato un bel terreno e di iniziare in qualche modo a pensare come andare a magari utilizzarlo al meglio quindi come andare a costruire una casa da dove si parte? pensiamoci bene non si parte certo dagli strumenti non si parte certo da quello che ogni tanto mi viene chiesto da imprenditore o dalle aziende cioè ok vogliamo fare marketing automation dice il software migliore o magari facciamo facebook advertising non si parte da lì non si parte dallo strumento si parte da che cosa? dai dati quindi torniamo alla casa di cosa abbiamo bisogno? ovviamente abbiamo bisogno di capire quali sono le misure le metrature esatte del nostro terreno capire le diverse dimensioni perché magari vogliamo capire dove farla a casa magari lì accanto ci vogliamo mettere che ne so un bel campo da tennis una piscina quindi dobbiamo capire un pochettino come funziona ed è per questo che i dati comunque stanno alla base di qualsiasi tipo di in questo caso anche progettazione della casa dopodiché dobbiamo iniziare a definire la strategia cioè dobbiamo iniziare a capire intanto chi andare a contattare ad esempio un costruttore, un architetto che ovviamente si occuperanno di tutta la progettazione della casa e la pianificazione anche delle diverse attività quindi da un lato magari le richieste di autorizzazione i permessi per costruire ovviamente la casa in maniera consona alle leggi e soprattutto dall'altra parte poi fino ad arrivare magari alle scelte di definizione vera e propria della casa e eventualmente anche dei servizi accessori a questo punto però la casa da sola non sta su nel senso che abbiamo comunque poi bisogno di chi eseguirà il lavoro e soprattutto come poi lo andrà a eseguire e questo è un po' diciamo il mondo delle tattiche cioè le tattiche sono fondamentalmente le persone, carpentieri, elettricisti sono le persone che poi andranno ad eseguire i lavori ma che assolutamente dovranno farlo in qualche modo guidati dalla strategia che abbiamo visto prima quindi guidati in questo caso dall'architetto ma queste tattiche come abbiamo visto prima nel digital marketing devono essere portate avanti in simbiosi in maniera integrata perché hanno anche una logica conseguenziale non è che partiamo dal tetto ovviamente per creare la casa magari gli elettricisti prima hanno bisogno ovviamente dei muri i termotecnici hanno bisogno hanno delle altre necessità per fare i lavori c'è bisogno che ci sia anche un flusso ben definito quello che poi nel digital marketing chiamiamo workflow dei lavori appunto da svolgere e solo infine arrivano gli strumenti attenzione però perché questi strumenti non è che sono scelti per a caso nel senso che non basta scegliere uno strumento perché appunto è utilizzato generalmente da appunto magari non so quell'elettricista o quel muratore anche qua la scelta dello strumento deve essere fatta in funzione di tutto quanto è stato progettato dei tempi che sono stati definiti e soprattutto l'obiettivo è quello di trovare strumenti per ovviamente creare la casa materiali per arrivare al risultato nel minor tempo o comunque rispettando i tempi previsti questa è una cosa fondamentale perché se ribaltiamo tutto e torniamo al digital marketing capiamo bene che la definizione dei tempi è una risorsa veramente molto importante e ci permette se sappiamo lavorare in un certo modo appunto di veicolare un flusso in questo caso dei dati in un modo veramente efficace vediamo un po' però appunto di tornare al digital marketing e a capire che cos'è appunto il dato e come andare a creare un flusso dei dati in maniera corretta intanto cerchiamo di capire la differenza fondamentale tra dati strutturati e destrutturati i dati strutturati sono dei dati che sono memorizzati organizzati comunque come scritto qui in un modo strutturato cioè hanno già degli schemi e delle tabelle prestabilite il classico sono appunto i dati legati al CRM è fatto per quello per andare in qualche modo a mettere ordine a dei dati che si possono in qualche modo incasellare i dati transazionali quelli di vendita esempio di utilizzo di carta e fedeltà quindi lascio nome, cognome magari il compleanno altre informazioni che vanno fondamentalmente appunto già strutturate dall'altra parte invece abbiamo dei dati che sono destrutturati spesso noi abbiamo a che fare con questi e la grande difficoltà è quella di appunto avere a mano questi dati che sono in qualche modo memorizzati senza uno schema ordinato quindi non possono in alcun modo essere salvati o gestiti parlo delle mail che riceviamo il contenuto della mail ovviamente non è che possiamo dal contenuto tirare fuori qualcosa i post sui social network video, audio, immagini se li lasciamo così e dietro non c'è un codice che in qualche modo va a integrare le informazioni facciamo molta fatica tutto quello che riguarda magari i canali fisici ad esempio il fatto di non riuscire a misurare se una persona all'interno di un negozio sta più tempo magari in un reparto rispetto ad un altro almeno se non riusciamo a trovare un modo per strutturare questa cosa e dall'altra parte poi abbiamo bisogno di una strategia che deve essere come dico spesso prima una strategia aziendale perché è veramente un cambio strategico che va a toccare l'azienda tante volte mi è capitato soprattutto quando parlo di formazione su queste cose di richiedere la presenza comunque di un vertice aziendale perché le attività di marketing grazie alla tecnologia oggi vanno a impattare su tutti i settori dalla produttività fino ad arrivare alla logistica anche alle risorse umane quindi è ormai veramente fondamentale che per sfruttare al meglio veramente le opportunità che abbiamo che ne abbiamo tantissime oggi a livello di digitale entriamo a cambiare un po' quello che è il mindset diciamo aziendale e quindi cercare di integrare una strategia a monte per i nostri fini poi di marketing abbiamo poi le tattiche nel parallelismo troviamo qua le nostre tattiche diverse che ovviamente devono essere mixate e anche loro devono avere una logica conseguenziale come quella appunto dei lavori che faranno i moratori che faranno gli elettricisti che faranno gli idraulici della nostra casa qui vi ho messo solo alcune tattiche cioè l'utilizzo ovviamente di una forte strategia di contenuti che qui ho messo quasi paritaria ma che in realtà io considero sempre alla base comunque perché senza contenuti difficilmente solo in particolari settori dove il brand è molto forte e comunque anche gli arrivano dei contenuti se vogliamo indiretti si riescono a ottenere dei risultati fino ad andare incontro alle diverse necessità come quelle che possono derivare dall'utilizzo del mobile quindi attività di engage mobile legate appunto alla mobile first experience cioè le persone che oggi iniziano a diventare addirittura mobile only cioè ci sono dei target di età che il computer non lo toccano neanche partono e per una serie di motivi fino a una certa età almeno ad oggi è così rimangono sul telefono e quindi loro o li becchi lì o non li becchi da altre parti fino a riuscire a intercettare le domande quindi il mondo della sale il mondo di adwords la possibilità di integrare tutto questo e di fare in modo ovviamente di lavorare sulle singole visite del sito e giocare diciamo con il remarketing con il mondo del display advertising tutte le tattiche legate a generare lead quindi generare contatti il mondo del social che oggi devo dire a livello aziendale ormai non può assolutamente stare da solo in maniera organica diciamo senza l'utilizzo ovviamente del social advertising e quindi degli investimenti pubblicitari e sicuramente ancora fortissimo visto appunto le facilità di implementazione anche di marketing automation c'è l'email marketing per gli strumenti anche qua abbiamo veramente di tutto anche qui ho fatto degli esempi proprio per legarmi a quello che ho appena detto anche esempi particolari come quello dell'analisi di neuromarketing cioè capire come le persone arrivano sul mio sito dove vanno a guardare e che tipo di emozione hanno per cui riesco anche a comprendere poi di modificare tattico strategie in funzione di questi dati utilizzo di CRM qua ho fatto un esempio di CRM open source più utilizzato per far capire che non è solo un investimento ma può essere un qualche cosa che viene personalizzato a seconda delle diverse esigenze software di account based marketing dopo lo vedremo nello specifico altri software per appunto creare engagement da mobile l'analisi degli intenti di ricerca quindi non solo del capire le parole chiave ricercate ma cosa c'è dietro quali sono gli intenti e quindi andare a scovare quelli che sono i bisogni latenti l'abbiamo visto nello scorso webinar e poi ovviamente una piattaforma che ci può aiutare per la mail marketing automation e che quindi ci deve supportare in tutte le nostre attività di diversi workflow il problema qual è? che a monte di tutto bisogna riuscire a impostare quella che io chiamo la scala della conoscenza del nostro utente cioè le persone che noi vogliamo andare a contattare sono spesso diverse hanno dei gradi di conoscenza del nostro prodotto del nostro brand veramente diversi tra di loro e quindi noi dobbiamo andare a creare dei workflow proprio un flusso diciamo di in qualche modo di engagement che è legato a qual è il grado fondamentalmente di conoscenza di queste persone perché non è che posso andare a proporre subito un abbonamento importante anche economicamente a un servizio se la persona è la prima volta che guarda il sito ci deve essere proprio una sorta se vogliamo di lasciatemi dare come tecnico un po' di di romanticismo potrei dire cioè bisogna proprio conquistarlo il nostro utente non si può arrivare lì e dire bene ok esci com'è stasera andiamo a cena cioè è proprio un corteggiamento che dobbiamo iniziare a instaurare con l'utente che arriva allora vediamo proprio com'è questa scala e quindi come andare poi a impostare il flusso di dati in funzione di questo intanto il più basso il gradino più basso vedete al primo step abbiamo quello che viene chiamato simple visitor cioè fondamentalmente rientrano in questo stadio tutti gli utenti che bene o male sono venuti a contatto con i nostri prodotti o servizi il nostro brand almeno una volta però non hanno interagito quindi ad esempio le metriche che ci possono aiutare a capire questo sono le visualizzazioni sul sito sui social e perché no anche offline dove è possibile in qualche modo andarle a tracciare nel secondo step un gradino diciamo un po' più vicino un po' più caldo è quello di chi almeno ha dimostrato interesse quindi è un utente un po' più avanzato se vogliamo ha dimostrato interesse verso il nostro prodotto verso un servizio o verso il brand perché magari ha effettuato un'azione può essere appunto una reaction su un social ha condiviso magari un post del nostro sito del nostro blog quindi in qualche modo ci ha fatto capire che c'è un interesse e c'è una percezione positiva del contenuto che gli è arrivato che abbiamo prodotto al terzo step quindi al terzo gradino arriviamo a quello che viene definito activate user cioè l'utente ha deciso di interagire in una maniera già un po' più avanzata con noi soprattutto è arrivato diciamo alla prima fase attiva ci ha fornito magari dei dati magari si è scritto una newsletter o ha lasciato i suoi dati per scaricare un white paper un catalogo oppure magari ci ha scritto semplicemente chiedendo informazioni direttamente al nostro form di contatto o magari ha creato l'account sull'e-commerce poi non ha comprato ma almeno ha lasciato i dati qui abbiamo il caso dove praticamente io dico sempre è l'utente da non far scappare cioè è un utente che ha dimostrato fiducia in noi ci sta donando qualche cosa che sono i suoi dati preziosa e quindi noi dobbiamo assolutamente imparare ad ascoltarlo e ad accompagnarlo ma attenzione non l'abbiamo ancora conquistato del tutto non ha ancora fatto la cosiddetta macro conversione cioè quella di acquistare un prodotto oppure un servizio chi la fa questa? la fa il customer il quarto gradino lì sì che abbiamo effettivamente l'utente che ha compiuto la cosiddetta macro conversione acquistato un prodotto un servizio e spesso qua dico è il momento dove le aziende si fermano ed è il grandissimo errore di oggi cioè considerare questo step che vedete al quarto gradino lo step conclusivo in realtà oggi questo non è più così nel senso che le grandi opportunità che abbiamo sono proprio quelle di avanzare e far diventare il nostro diciamo cliente un qualcosa di più un ad esempio un active customer cioè un cliente che diventa attivo rappresenta un cliente che ha acquistato comunque il nuovo status e quindi ha fatto un passaggio successivo perché va a interagire magari con i nostri prodotti o servizi cioè lui ha già acquistato e in più comunica con noi ci fa capire che quello che ha acquistato l'ho apprezzato magari il servizio anche che ha che ha affruito è stato comunque positivo e qui fondamentalmente è un utente che se vogliamo è contento magari non ha ancora fatto il nuovo acquisto quindi uno l'ha fatto ma è diciamo pronto come dicevo qua per l'upselling cioè per in qualche modo fare un acquisto successivo ed è su quello che dobbiamo andare a lavorare cercare in qualche modo di creare strategie proprio per fidelizzarlo sempre di più ed arrivare finalmente all'ultimo gradino che è il vero obiettivo un utente fedele un cliente fedele quindi non è più utente è già diventato un bel cliente ha effettuato l'acquisto condivide recensisce ovviamente in modo positivo e addirittura condivide magari la sua esperienza attraverso la sua cerchia sociale quindi attraverso i social attraverso altri blog scrive magari e quindi è a tutti gli effetti un vero ambassador è l'influencer possiamo dire del nostro brand anche qua però attenzione in realtà non è veramente finita perché come vedete ho messo comunque un obiettivo cioè mantenerlo dobbiamo comunque creare delle strategie creare dei workflow che facciano arrivare da semplice utente ad ambassador ma poi dobbiamo riuscire a mantenerlo in questo stadio diciamo soprattutto aumentare mantenere la soddisfazione magari con iniziative dedicate proprio a questo tipo d'utente anche un cliente fedele magari gli facciamo provare in anteprima i nuovi prodotti lo inseriamo anche nelle strategie di co-creazione di nuovi prodotti di nuovi servizi cioè è un cliente da tenere diciamo in quello che spesso viene chiamato il gruppo prestige dell'azienda cioè è un cliente particolare che va coccolato proprio perché ci ha dimostrato fiducia ha dimostrato anche possiamo dire un certo livello di engagement esterno e quindi assolutamente dobbiamo coltivarlo allora una prima verifica a questo punto è importante da fare cioè che vi invito magari a rifare una volta se magari siete già in ufficio quindi facciamo domani che è quella di capire quindi prima di impostare tutto questo quali sono i dati che già hai a disposizione che già avete in questo caso a disposizione cioè spesso ci sono dei dati che appunto sono magari destrutturati da strutturare oppure ci sono già e quindi sono già strutturati alcuni ma magari non vengono utilizzati quindi non solo capire quali sono ma iniziare a pensare anche a un flusso di dati per fare in modo come abbiamo visto che i diversi step dell'utente vadano a comporre la appunto il percorso corretto per poi in qualche modo essere inseriti in workflow e quindi ognuno dei utenti che diventa un tipo di cliente come abbiamo visto poi sarà collegato a determinate azioni che potremo fare in maniera automatica o semi-automatica e capire poi appunto come andare a implementarlo ovviamente adesso vedremo un po' di opzioni per fare questo e per creare appunto questi workflow una cosa fondamentale che ho già detto prima è quella di creare un flusso di dati strutturato cosa significa questo partiamo da una notizia tanto per capire che cosa significa strutturare notizia è questa qua ovviamente inventata l'azienda ultra fast nata nel 1998 a Treviso operante nel settore dell'automotive ha fatturato nel 2017 un totale di 80 milioni di euro di questi 60 milioni sono fatturati all'estero mentre i restanti 20 milioni in Italia l'aumento rispetto all'anno precedente è stato del 17% a fronte di una forte spesa pubblicitario online un milione di euro oltre che sui media tradizionali tra tv radio e riviste di settore in cui appunto è stato speso 700 mila euro tantissime informazioni utili veramente molto interessanti ma non sono strutturate sono inserite ci sono ma hanno bisogno di una struttura la stessa notizia quindi letta in questo modo ha un altro significato azienda ultra fast anno di nascita 98 sede treviso settore automotive cioè capiamo che in questo modo la lettura è molto più semplice ma non è che l'obiettivo è questo perché la vogliamo andare a strutturare perché in questo modo possiamo utilizzarla attraverso diciamo tanti modi diversi possiamo andare a confrontarla con le altre e questo è un po' l'esempio di quello che è appunto l'attività di definire i cosiddetti trigger nella marketing automation cioè riuscire a inserire dei dati in maniera strutturata per far sì ad esempio che io domani mi sveglio e dico faccio partire in questo caso ovviamente abbiamo dei dati di notizie ok immaginatevi che siano dati di aziende faccio partire come vedremo dopo un banner automatico solo alle aziende automotive che hanno magari un fatturato maggiore di 80 milioni di euro perché lo posso fare perché prima ho strutturato i miei dati ok quindi il vero lavoro il flusso appunto dei dati è quello di capire come strutturarli e poi andarli a gestire con azioni mirate quindi strumenti per strutturare dati ce ne sono tanti oggi io qui metto sempre il mio caro motore di ricerca perché il motore di ricerca interno al vostro sito collegato a google analytics vi permette di capire tutte le richieste che le persone fanno all'interno del sito nel mio nuovo sito ha ad esempio una parte centrale addirittura nella versione da desktop vi segue in tutte le pagine con una scritta cosa stai cercando io ai primi eventi quando l'ho lanciato l'ho detto anche in pubblico io inizierò a fare già ce ne sono abbastanza devo dire una serie di articoli di approfondimento in funzione delle ricerche che verranno fatte sul mio sito per cui se avete dei bisogni particolari andate nel motore di ricerca cercate ovviamente magari non troverete una risposta ma io saprò esattamente cosa avete cercato e proverò a creare magari contenuti o servizi perché no legati ai vostri bisogni la stessa cosa si può fare ovviamente con un e-commerce e si può fare ancora di più si può anche utilizzare tra l'altro proprio ho fatto una ricerca ultimamente con un software specifico per questo si possono anche utilizzare le ricerche per fare attività di upselling o crossselling quindi se tu hai cercato questo io automaticamente ti faccio vedere delle cose simili se ci pensiamo bene è quello che viviamo tutti i giorni con Amazon che ci propone delle cose in funzione di quello che abbiamo cercato ma lo possiamo fare anche nel nostro sito lo possiamo fare nel nostro e-commerce va fatto però in maniera strutturata e strategica altri esempi che vedete sono quelli di Google Search Console e Google Analytics in particolare vorrei citare perché collegando questi due strumenti che tra l'altro sono gratuiti c'è la possibilità di andare a verificare quali richieste sono state fatte dalle persone su Google e quali di queste sono arrivate al nostro sito ovviamente è un numero che purtroppo per motivi storici di Google non è altissimo nel senso che si stima a seconda dei siti tra diciamo il 30-40% anche meno però è possibile capire appunto come le persone sono arrivate sul mio sito che cosa hanno cercato soprattutto quando fanno questa ricerca da Google e arrivano sul sito e già quello è un dato che io posso andarmi a strutturare tutte le persone che mi hanno cercato per questi motivi magari poi hanno convertito e hanno comprato che significa che ad esempio su altri prodotti devo lavorare meglio lato SEO perché se riesco a far arrivare quello stesso tipo di pubblico per altre parole chiave dove magari non sono posizionato ecco che allora riesco a coprire anche quelle esigenze di quel pubblico specifico di riferimento che magari già naturalmente acquista perché una parola chiave specifica per un prodotto è ben posizionata motivo per cui l'integrazione come vi dicevo prima è totale vi parlavo prima di neuroanalisi cioè la possibilità di misurare anche emozioni e tracciabilità ovviamente dei siti web vado un po' veloce oggi possiamo fare tranquillamente light tracking specifico su delle call to action su degli inviti alle azioni quindi misuriamo dove va l'occhio dove si ferma della persona attraverso dei test che possiamo fare su un campione di pubblico di riferimento ma possiamo vedere soprattutto l'emozione e lo stress quindi misurare attraverso l'entricefalogramma che tipo appunto di reazioni di emozioni hanno a seconda di quello che vedono in questo caso c'è uno stress alto perché fondamentalmente questi banner un po' stressano posti in questa posizione poi sono stati migliorati hanno dato dei risultati eccellenti in altri casi invece lo stress appunto può essere analizzato qua manca l'immagine ma era un'immagine comunque da mobile in questo caso è stata proprio un'analisi fatta su un motore di ricerca da mobile e dava invece un alto engagement perché il motore di ricerca comunque posto sotto la testata ti permette comunque di ricercare le cose se non le trovi dall'altra parte abbiamo visto che c'è flusso dei dati e quindi sicuramente per quanto riguarda le aziende B2B che magari sono anche all'ascolto oggi non si può non parlare di account based marketing significa che non possiamo non conoscere e utilizzare al meglio il flusso dei dati che abbiamo appunto rilevando i dati aziendali delle appunto aziende che visitano il nostro sito cioè oggi noi abbiamo la possibilità di misurare tutto questo per i privati non si può per le aziende sì quindi possiamo sapere esattamente qual è l'azienda che ha visto il mio sito e attraverso un sistema come questo in questo caso il lead champion discover possiamo andare anche a scoprire i dettagli importanti che saranno funzionare il mio flusso poi di azioni lo score quindi capire in base ai nostri interessi se questo lead è interessante o meno siamo noi che possiamo impostare qua per esempio sono dei numeri il grado di interesse per questo lead oppure no possiamo valutare anche il rischio eventualmente del credito addirittura questa cosa interessante comunque purtroppo spesso italiana è possibile già inserirla possiamo addirittura nella slide successiva vedere il fatturato capire magari il codice Ateco le informazioni di business i siti di riferimento i contatti diretti capire appunto quali pagine sono state viste distinguere ad esempio i singoli visitatori all'interno dell'azienda perché magari riesco a vedere che una visita arriva dal reparto marketing l'altra dalla logistica abbiamo veramente praticamente in mano le carte scoperte di chi sta guardando il nostro sito ovviamente per quanto riguarda gli account aziendali quindi le visite che arrivano dalle aziende ma possiamo fare molto di più questo anche per il B2C possiamo andare a come detto prima una volta che io ho creato la mia strategia di contenuti posso andare a creare delle ottimizzazioni automatiche o semi-automatiche in funzione delle pagine che sono viste quindi posso magari creare un'offerta di sconto in automatico perché quella persona ha fatto tre volte la visita al sito magari è indecisa e allora solo perché ha tre volte che guarda quella stessa scheda prodotto alla quarta gli faccio uno sconto è un po' più complesso ovviamente ma è per far capire proprio che questo workflow può essere creato in maniera differente voglio fare attività di content marketing puro quindi dare veramente dei contenuti informativi e ottenere dei dati creo la possibilità di un banner con il download di un documento l'iscrizione alla newsletter la cosa un po' più semplice che si può fare ma anche qua farlo in modo interessante nella mia ad esempio ogni meno male settimana ogni 15 giorni c'è un'iniziativa dedicata agli iscritti uno sconto particolare per un evento un white paper dedicato ce ne sono comunque devono essere poi create delle modalità appunto di fidelizzazione se tu mi dai fiducia ti iscrivi dall'altra parte devi essere ripagato con qualcosa più mi ripaghi più mi confermi magari l'iscrizione stessa alla newsletter altri modi sono quelli poi ovviamente di richieste di contatto diretto che possono essere fatte anche qua a seconda delle attività la cosa interessante è che queste azioni possono essere svolte a seconda come dicevo di regole di attivazione legate al tempo magari il tempo della pagina il tempo sul sito generale il numero di pagine viste gli scroll sulla pagina l'eventuale magari abbandono dell'e-commerce e anche regole di targeting quindi legate al fatto se il visitatore è nuovo o di ritorno da dove arriva già localizzate magari se arriva da una landing page magari in base ai parametri nell'indirizzo url questo ad esempio è molto comodo nell'e-commerce quando si vuole fare delle campagne dedicate a una categoria di prodotti ma non è finita qua perché la cosa veramente interessante è che possiamo far tutto questo in maniera completamente integrata cioè soprattutto per l'account based market quindi il B2B noi potremmo dire che tutte le aziende vengono filtrate come vediamo in un certo modo perché questi dati li abbiamo e possiamo dire di fare partire questi banner automatici in funzione di determinate condizioni che dipendono da target aziendali specifichi che abbiamo assegnato noi dal fatturato anno dal numero di dipendenti o magari dalla categoria in cui è praticamente legata a quell'azienda quindi avete ben capito che creando prima un certo tipo di flusso di dati e dall'altra parte avere una base di contenuti ci permette poi di arrivare all'azione in questo modo per chiudere quindi primo obiettivo qual è? sicuramente quello di andare a integrare i diversi touch point abbiamo compreso quanto sia fondamentale utilizzare tutti i dati che abbiamo a disposizione inserirli in maniera strutturata comunicando comunque come base ovviamente i nostri contenuti e dall'altra parte creare dei workflow integrati che ci possono portare in qualche modo poi appunto a raggiungere i diversi scopi a seconda però ricordiamoci sempre del diverso grado di conoscenza come ho fatto vedere all'inizio il classico esempio è quello dei carrelli abbandonati cioè l'utente un workflow proprio classico l'utente appunto ha riempito magari il carrello senza acquistare quindi lo invitiamo a consultare i nostri prodotti inserendo il link al carrello ha creato l'account e ha riempito il carrello ok lo ringraziamo per l'iscrizione e offriamo magari un buono sconto magari se continua appunto a non acquistare di nuovo torna effettua un momento un accesso ma senza acquistare a questo punto è pronto probabilmente ha un problema che potremmo andare a individuare nel fatto che la spedizione è troppo costosa allora proviamo a offrire qualcosa di più una spedizione gratuita cioè come vedete anche qui si creano dei workflow però in maniera conseguenziale a seconda del tipo di azione si vanno poi a creare una serie appunto di workflow che oggi diventano determinanti ma ripeto non è tanto un discorso di strumenti che sicuramente come avete visto sono fondamentali non è tanto un discorso di idee ma è soprattutto la capacità di creare un flusso dall'inizio alla fine di dati perché poi alla fine ci serviranno per capire i risultati e per magari modificare eventualmente i nostri workflow per arrivare poi al risultato finale quindi compiti a casa o meglio in ufficio terminato il webinar provate a rivedere un po' quali sono le vostre modalità per catturare i lead in che modo magari riuscite a mantenere i vostri clienti esiste una strategia per mantenere i vostri clienti è già c'è già se no come implementarla perché l'obiettivo finale non è quello appunto di arrivare alla conversione ma è quello di fare diventare influencer o meglio come ho identificato prima ambassador bene direi che io ho terminato perché altrimenti arrivo lungo così c'è un po' di spazio per le domande continuate a seguirmi ovviamente sui miei canali il sito francesco denobili punto it e su linkedin che appunto amo tantissimo e dove è veramente veramente bello scambiare sempre pareri informazioni approfondimenti anche su queste attività e ovviamente anche via mail se volete info chiocciola francesco denobili punto it siamo arrivati alle domande perfetto grazie francesco è stato veramente interessante e spero che anche chi ci segue abbia trovato degli spunti utili da mettere in pratica nel quotidiano perché tante volte anche da quella che è la nostra esperienza come mail app vediamo che l'ostacolo principale all'applicazione anche di procedimenti di base di automazione è proprio questo scoglio del mettere insieme diversi pezzetti si ha un'informazione da una parte un'altra dall'altra non si sa come farle parlare e si pensa che siano delle attività che richiedono tantissimo sviluppo anche tecnico e di applicazioni quando in realtà non è così come mail app visto che diverse persone ce l'hanno chiesto noi offriamo all'interno della piattaforma diversi strumenti per l'automazione in particolare per la costruzione di workflow multicanale che cosa vuol dire sono dei flussi automatizzati che prendono in considerazione sia il canale email che quello sms e si applicano benissimo a tantissime casistiche per esempio quella del carrello abbandonato classica dell'e-commerce è evidente che a monte ci deve essere un'integrazione con il sistema e-commerce altrimenti non c'è il passaggio del dato che permette l'innesco proprio dell'azione e dell'invio automatico ma anche fare un'integrazione con un e-commerce non è per forza un'impresa difficilissima e super tecnica noi abbiamo mettiamo a disposizione tante integrazioni già pronte già sviluppate ready plug-in diciamo che si possono installare senza bisogno di sviluppi tecnici particolari poi se c'è bisogno invece di sviluppare un API o qualcosa di specifico perché utilizzate una piattaforma e-commerce magari proprietaria non standard o con delle specifiche particolari noi siamo più che disponibili a fornire tutto il supporto e l'aiuto proprio per sviluppare un'integrazione ad hoc quello che vi dicevo all'inizio su quello che è la nostra attività che è proprio ritagliata sulle esigenze dell'utente ma passiamo alle domande innanzitutto Francesco facciamo una sorta di recap di tutto quello che abbiamo detto in queste puntate ovvero quali sono le quattro azioni fondamentali quattro per dire potrebbero anche essere cinque azioni fondamentali per impostare veramente una strategia integrata certo beh allora facciamo già ripilo con quello che abbiamo detto oggi allora da un lato ovviamente la base come abbiamo visto è quella del dato quindi capire come strutturare i dati che abbiamo a disposizione considerando appunto i diversi canali quindi creare appunto un flusso per in qualche modo non perdere io dico sempre nessun tipo di attività che riguarda i nostri prodotti i nostri servizi e il nostro brand quindi abbiamo proprio la che poi è secondo me il plus del digitale cioè la possibilità di tracciare veramente qualsiasi azione abbiamo visto addirittura la possibilità con neuroanalisi da questo punto di vista ma ce ne sono altre comunque anche più semplici dove fondamentalmente quindi tutto quello che viene in qualche modo a contatto con noi dobbiamo assolutamente andarlo a incanalare inondato da lì secondo step la strategia definire insieme ovviamente dico insieme perché a me capita spesso di farlo direttamente appunto con con l'azienda stessa perché è una vera trasformazione digitale che tocca a tutti la strategia aziendale prima e di marketing poi perché ci deve essere una macro strategia a monte poi andremo a definire piano piano obiettivi KPI quindi tutto il discorso degli indicatori micro e macro obiettivi per differenziarli per vedere come andare a impostare le cose terzo step il mix di tattiche sono tantissime anche qui avete visto tante informazioni che ho dato prima ma usandole in modo integrato come abbiamo detto e soprattutto mixandole perché avendo diverse tipologie ricordiamoci sempre come fatto vedere prima che ha diversi gradi di conoscenza quindi possiamo dire ha un diverso calore nei nostri confronti quindi dobbiamo sapere mescolare queste tattiche in modalità differente utilizzando alla fine gli strumenti che abbiamo a disposizione sono tanti ma anche lì va fatta una scelta ovviamente in funzione di che cosa di tutto quello che abbiamo preparato prima quindi dei nostri workflow che abbiamo creato se sappiamo di avere un certo tipo di cliente che magari è reattivo in funzione di determinate azioni che facciamo abbiamo quindi iniziato a imparare un certo tipo magari messo in gioco anche delle tattiche che lo portano poi a convertire scegliamo uno strumento adeguato perché come dico sempre il classico è l'esempio generazionale se tu a Millennials gli fai una pubblicità in vecchia maniera su dei ma anche scuerate addirittura ultimamente vedevo dei dati anche su Facebook organico nel senso che sono dei ragazzi che Facebook non lo guardano neanche più a una certa età partono da Instagram rimangono lì tu devi sapere come andarle intercettare certo attraverso Facebook advertising potrai gestire la parte Instagram ma comunque devi sapere che è un pubblico che ha esigenze particolari e quindi diciamo che questa è un po' la cosa tornando nel nostro ciclo ai dati quindi una volta fatto tutto questo si torna a valutare le azioni svolte e magari si va a modificare il flusso dei dati per ottimizzarle perché non è che la prima volta ci prendiamo ovviamente abbiamo delle azioni abbiamo magari anche un flusso di dati che poi vogliamo andare magari a specificare in maniera più più precisa o vengono fuori magari dei nuovi workflow che possono diventare interessanti a funzione in funzione magari di caratteristiche particolari come possono essere non so anche la geolocalizzazione e anche lì ovviamente abbiamo bisogno poi di incrociarle durante il percorso nel workflow che abbiamo definito perfetto la domanda successiva è quanto è oneroso implementare queste strategie e dotarsi di questi strumenti sia a livello di costo economico che a livello di risorse umane impegnate certo domanda legittima e risposta che non può essere che dipende nel senso che per quanto riguarda le risorse devo portare delle esperienze proprio recenti è molto importante secondo me e i risultati me ne danno atto vedere come andare a creare una vera e propria sensibilizzazione a questi argomenti all'interno dell'azienda cioè significa che è proprio un cambio di mentalità significa che tutti i reparti dell'azienda iniziano ad avere un'attenzione diversa al dato rispetto a prima questo ovviamente aiuta attraverso la consulenza attraverso la formazione io ho visto dei casi dove veniva tutto bene o male gestito dall'interno dell'azienda c'era solo bisogno ogni tanto di fare dei momenti formativi di questo tipo cioè dove andare a individuare per le diverse aree quali erano magari le modalità per ottenere i dati e insieme come puoi andarle a strutturare in altri casi invece si passa tutto all'esterno si dice no ok noi non sappiamo non abbiamo né tempo né la professionalità per gestire tutto questo lo mandiamo tutto fuori e quindi in quel caso ovviamente i costi aumentano perché più porti fuori le cose più aumentano però lasciatemi dire non è veramente un costo io onestamente che ho la figura diciamo più da divulgatore poi seguo i progetti direttamente vedo i diversi attori interessati quindi sono un po' super partes devo dire la verità e vedo che sono degli investimenti che vengono fatti che una volta che la macchina poi viene messa in piedi portano dei risultati che uno dice ma perché non l'ho fatto prima cioè finalmente adesso inizia a avere un qualcosa che comunque vada tra l'altro con i cambi e i cambiamenti tecnologici che abbiamo mi permette di rimanere sempre costantemente sul pezzo possiamo dire di cifre onestamente ve ne posso fare ne ho visti di tutti i tipi per cui non so se ha senso farle avendo ovviamente dei progetti che partono dalle piccole e medie imprese fino a aziende multinazionali che lo fanno magari su diversi country che sono sparse nel mondo ovviamente capite bene che può cambiare si moltiplica anche in funzione di tutte le attività che vengono che vengono utilizzate però ripeto una modalità che può anche essere gestita completamente dall'interno attraverso una strategia e un accompagnamento che viene fatto spesso dalla formazione ma che poi va integrato proprio all'interno dell'azienda perfetto abbiamo praticamente finito il tempo in tanti stanno chiedendo delle nozioni più pratiche su come utilizzare mail app anche all'interno di questi processi io rinvio tutti quanti a un diverso tipo di webinar rispetto a questi che sono più teorici strategici quelli che sul sito di mail app trovate definiti come mail app next level quelli sono molto più pratici più specifici vengono gestiti da una persona che mette proprio le mani all'interno del prodotto e servono proprio per imparare come utilizzare la piattaforma mail app per obiettivi concreti il prossimo è il 25 gennaio e sarà dedicato agli strumenti per la marketing automation quindi vi invito tutti a iscrivervi se volete gratuito ovviamente trovate link di iscrizione sempre sul sito mail app alla pagina webinar e in questo modo potrete avere un punto di vista complementare dal lato proprio pratico piattaforma inoltre inoltre sì questo webinar è stato registrato e vi sarà inviata la registrazione via mail tra domani e lunedì troverete comunque anche le registrazioni e le slide scaricabili nell'archivio dei webinar sempre nella sezione webinar appunto del sito mail app detto questo io ringrazio tutti quanti ringrazio specialmente te Francesco ci sarà sicuramente occasione di collaborare ancora anche se questo ciclo di webinar ormai è finito ma ci inventeremo sicuramente qualcos'altro grazie a tutti e a presto grazie a tutti a presto